Bentornati a Roma Incontra Allora, è conduttore con Marco Presta di una trasmissione culto, cult, come si dice, della radio, Rai Radio 2, che si chiama Rugito del Coniglio, ma è soprattutto autore di un libro che vi consiglio di leggere perché vi colpirà e poi adesso ne diremo perché. Il titolo del libro è La rivoluzione del coniglio, come il buddismo mi ha cambiato la vita per Mondadori. È Antonello Dose. Allora, 55 anni, friulano di origine, romano d'adozione, conduttore di questa trasmissione eccezionalmente, fa un milione di ascoltatori ogni giorno. Il binomio con Presta nasce fin dal liceo perché erano compagni al liceo, giusto o no? No, abbiamo un anno di differenza, in parrocchia ci siamo conosciuti, la parrocchia di Roma Sud, San Policarpo. Vedi, mi hanno già detto una cosa. E poi però vi formate intorno a un personaggio importante come Vaime, giusto? E Vaime il vostro papà, diciamo. E tra gli altri scrivono testi al di là della loro trasmissione per altri, Fabio Fazio, Montesano, Solenghi, eccetera. Insomma, quindi, vista la storia di Antonello Dose, uno dice adesso prendo il libro e mi diverto perché sarà un libro pieno degli aneddoti che riguardano questi, quanto sono, 22 anni, no? 22 anni di coniglio, esatto. Di coniglio che ruggisce. E invece è una inedita e inaspettata storia di vita. Intanto un pezzo di quello che non ti aspetti ce l'hai nel titolo, il buddismo. Come e quando ti ha cambiato la vita il buddismo? Dunque ho iniziato a praticare questo buddismo giapponese, il buddismo di Nichiren Daishonin, 27 anni fa. Perché ho scoperto che ci sono tanti buddismi e lui ha scelto quello giapponese. No, mi è capitato quello, non è che avessi chiara la situazione. C'è una mia carissima amica, lo racconto nel libro, Betta, che in un momento di difficoltà in cui stavo affrontando la perdita per malattia del primo amore della mia vita. Quindi già c'era il travaglio, sono gay, oddio, se lo dico, non mi vogliono più bene. E qui è il secondo elemento che... Questo primo amore della mia vita ha avuto la bella idea di ammalarsi e di morire. E di fronte al dolore che si prova di fronte alla perdita di una persona cara e del fatto di non poter fare niente, per affrontare lo stress, ho iniziato a seguire questa pratica religiosa, pensando che fosse una tecnica da imparare, un esercizio, venivo dal teatro sperimentale. Uno yoga, diciamo. Esatto. C'è una posizione del corpo, c'è una preghiera che si ripete utilizzando la voce, c'è un raccoglimento, una concentrazione. E facendo questo esercizio ho iniziato subito a... Però tu venivi da una famiglia cattolica, non so se eri praticante tu, ma insomma... Beh no, insomma, io e Marco ci siamo conosciuti in parrocchia, voglio dire. Cresmato, battezzato e con una famiglia molto religiosa. Mio papà è cresciuto in seminario, è ministro dell'eucaristia, ancora adesso che ha quasi 90 anni, per cui c'è, diciamo, c'era molta frequentazione religiosa. Quindi con un'educazione anche così di fede ho iniziato a fare questo esercizio. E l'ho iniziato a fare come ero abituato a fare i miei allenamenti in teatro. Ho iniziato a recitare, a studiare l'esercizio ore al giorno, perché se vuoi avere dei risultati devi studiare tanto. L'effetto è che poi mi sono successe nella vita cose così particolari che dopo qualche anno mi sono dovuto rassegnare al fatto che questo buddismo di Nichiren De Shonin sia una religione vera e propria e che funzioni nella vita di tutti i giorni, che personalmente ritengo mi abbia salvato la vita addirittura. E come è successo? Raccontaci quando hai percepito questo cambiamento così forte. Beh, proprio dall'inizio pensavo di cosa sarà la fortuna del principiante. Ho iniziato a pregare diverse ore al giorno, perché avevo un grosso problema. E dopo un mese di questa preghiera, per esempio, io ero andato in Centro America a scappare, perché c'erano un po' delle questioni che poi racconto nel libro. E dopo un mese di questo esercizio ci chiama Enrico Vaime, a me e a Marco, torna, torna in Italia perché vi voglio come assistenti per il Festival di Sanremo di quell'anno. Capisci? Io che venivo da una gavetta attoriale, faticosa e soprattutto poco retribuita, mi sono trovato a lavorare nella trasmissione più importante che si fa in Italia. E da allora è stato un continuo di colpi di fortuna, sincronie. Quindi tu dici, vabbè, sarà stata una coincidenza, quest'altra sarà stata una coincidenza. Alla fine veramente mi sono rassegnato che c'è, esiste un aspetto mistico della realtà, mistico nel senso che la nostra mente ancora non riesce a comprendere certi meccanismi, e da una parte si chiama miracolo, sacro, diamo forse dei nomi diversi a qualcosa che invece è profondamente umano. Senti, però leggendo il libro si scoprono altre cose, quindi non solo che sei buddista, cosa che non credo avessi rivelato se non alle persone che ti conoscevano strettamente, certamente non l'hai mai detto alla radio per dire. non solo la tua omosessualità, ma anche il fatto che fossi malato, che fossi, che sei malato di HIV. HIV, sì, ho avuto questo contatto per caso col virus dell'HIV, curiosamente non l'ho preso dal mio compagno che se n'è andato, l'ho preso in circostanze curiose che racconto nel libro, e ritengo che il fatto di avere a disposizione uno strumento per controllare, osservare e controllare la mia mente sicuramente ha fatto la differenza, ho scoperto questa cosa durante delle analisi di routine nel 94 e a quei tempi non c'erano medicine, quindi la prospettiva di sopravvivenza era estremamente bassa, 3-4 anni, anche meno. Per cui il fatto di avere uno strumento, la preghiera, che mi ha consentito di tenere alto lo stato vitale, di mantenere la mente indirizzata verso la positività, ha fatto sì che io sono sopravvissuto abbastanza da arrivare in tempo per le medicine. Per me è una cosa oggettiva. Tu attribuisci alla tua pratica buddista il fatto di aver potuto sopravvivere in quella fase e poi... Sicuramente, perché io proprio ho fatto questa cosa da certosino, mi segnavo le ore al giorno in cui pregavo. Per i primi dieci anni è proprio l'esperimento. Ho ancora tutti... Dieci anni stai dicendo come se fossero... E anche questo, anche le cartelle cliniche, no? Raccolgo su un modello Excel, su un computer... E ho visto che c'è proprio una relazione, che se tu lavori su te stesso, lavori sulla gioia di vivere, lavori sulla tua mente, sul fatto che ce la puoi fare e impari a combattere, a staccarti un po' dalla preoccupazione, perché poi la depressione, sono queste le cose che fanno ammalare. Questa cosa ha una relazione diretta col funzionamento del sistema immunitario. Adesso tutte le ultime ricerche di tanti campi stanno confermando queste teorie. Tutti dicono che meditare fa bene, pregare fa bene. Adesso stanno riuscendo anche a dimostrarlo scientificamente. A prescindere da cosa preghi, eh? Senti, però la cosa che mi ha colpito di più è il fatto che tu tutte queste cose te le sei tenute per te. Ma non per te nel senso che non le hai rese pubbliche come invece è stato adesso con il libro, ma per te anche nei confronti della tua famiglia, di Presta, che insomma, penso che conviviate più ore al giorno da 22 anni, quindi insomma, praticamente siete... Sai, rispetto ai genitori è stata proprio un'operazione di pietà figliale. Io penso che, insomma, ritenevo di avere nell'esperienza quotidiana lo strumento per tenere sotto controllo la mia sofferenza e la mia preoccupazione. Immagino che per un genitore sia molto più problematico sapere che un figlio ha una malattia probabilmente mortale. Gli avrei rovinato i sogni di vent'anni. Perché lo rivelo adesso? Lo rivelo adesso perché... Dimmi anche perché, perché l'hai taciuto anche con Presta e con gli... Mi pare con gli amici. Insomma, sai, a un certo punto è rimasto chiaro che questa malattia si trasmette solo in alcuni modi, no? Anche se la cultura del tempo l'aveva etichettata come la peste, no? Del secondo millennio o... C'erano anche delle pubblicità che invitavano, che isolavano il soggetto. Però anche un po' di interessi farmaceutici intorno. Certo. Conoscendo molto Marco e volendogli bene, gli ho evitato un motivo di angoscia quotidiano. Dovrebbe... A quel punto si sarebbe mosso sempre nei miei confronti in maniera, appunto, amichevole, compassione. Però questo, ricordandomi continuamente che avevo questo problema, questa spada di Damocle che mi pendeva sulla testa... Ho provato a immaginare, no? E devo dire che è difficile tacere a chi ti sta vicino quotidianamente cose così. E soprattutto se poi insieme dovete fare una cosa che faccia divertire gli altri, perché... Eh, dovevo fare il lavoro di preparazione a casa tutte le mattine. Prima di uscire di casa dovevo costruire questo stato vitale per trovare il coraggio di affrontare la giornata. E... Però è questo che mi ha salvato. Ma secondo te ti ha salvato anche il fatto che facevi quel tipo di mestiere lì, anziché... Assolutamente. È stata una grandissima fortuna, una grandissima protezione. E ti sei mai trovato davanti al microfono della RAI e dovevi dire delle battute? Non so, per esempio, come siete organizzati? Fatte a copione o... O siete come Totò e Peppino che inventate... Abbiamo alcune parti estremamente strutturate, scritte, all'antica italiana. La scuola di Weim non poteva che insegnarci a fare delle scalette blindate al minuto e a scrivere i testi degli artisti che lavorano con noi, con cui noi abbiamo la fortuna di lavorare, perché sono tutti bravissimi, Ratti, Laminaccioni, Max Paiella, eccetera. E poi c'è, proprio perché hai una struttura fissata, hai dei binari costruiti, che allora ti puoi divertire e improvvisare, a seconda dell'ascoltatore che chiama. Comunque una diretta, lo sai, può essere per me, appare una scheda con un nome e una città, ma può essere chiunque di là. Devo dire che nel tempo si è creata questa comunità quasi affettiva, a cui noi diamo il più possibile, da cui però riceviamo veramente tanto. Ma ti sei trovato di fronte al microfonone che si usa in radio e non riuscivi a tirar fuori per colpa delle cose che avevi sulle spalle? Beh, io mi ricordo la mattina, la mattina che ancora non c'era il coniglio, stavamo facendo un altro programma, che ho ricevuto la notizia delle mie analisi, e quindi io per qualche settimana sono stato, giustamente, in un stato di shock. E lì un po' parte il mestiere, il pilota automatico. Tu sai comunque che stai lavorando, stai facendo il tuo dovere e ce la metti tutta. E' stato, perché lo dico adesso? Lo dico adesso perché se ho la presunzione di provare a spiegare alle persone che mi conoscono, che mi ascoltano da tanti anni, il senso di questo percorso religioso che ho fatto, perché è una religione vera e propria, non potevo tacere le questioni più serie, anche più imbarazzanti. Quindi diciamo che mi sarei sentito un po' disonesto a tenere nascoste queste cose, anche se se ne parlano con un po' di difficoltà in questo paese. Ed è una cosa, ed è un peccato. Un paese un po' bigotto, lo sai. Perché ci sono decine di migliaia di persone che sono nelle stesse condizioni, sono molto meno fortunate di me, se lo vivono male, e il fatto di non parlarne, di tenersi chiusi in casa, sicuramente non fa bene alla loro salute. Ha maggior ragione che adesso ci sono le medicine che rendono il soggetto sieropositivo non più contagioso praticamente, con quantità di virus nel sangue non più rilevabile dalle macchine. Questo significa che se se ne parlasse e si facesse un'azione sanitaria seria, si potrebbe nel nostro paese interrompere l'epidemia. Mi sembra che vale un po' la candela di rischiare un po' della propria fama, della propria vita pubblica, per uno scopo del genere. Tu ha qua. Grazie. Dopo quanto tempo hai avuto l'idea di aver dominato la bestia? In realtà, sai, è una battaglia quotidiana, perché tutti i giorni hai i pensieri, così. Però ho iniziato a avere dei segnali estremamente incoraggianti dalla vita, ritengo anche della mia preghiera, quando il compagno successivo a Piero, cioè quello che io nel romanzo chiamo Angelo, ho incontrato questa persona, ci siamo innamorati, lui era un giovane scienziato, è un giovane scienziato, chiaramente il nome è inventato, perché lui ha un ruolo pubblico, che ha deciso di partire per gli Stati Uniti e di concentrarsi proprio su questa problematica. Angelo è tra le maggiori autorità al mondo sull'argomento che stanno lavorando per eradicare, per trovare una medicina definitiva che risolva il problema senza farmaci. E questa cosa potrebbe avvenire addirittura entro l'anno o inizio del 2018. Già il fatto di essermi trovato in relazione con questi eventi così quasi da film, perché non è possibile, io inizio, no? Ho la mia vita devastata da questa cosa. Poi mi capita di doverla affrontare personalmente dopo aver passato anni, no? Mesi, mesi, in quei terribili corsie d'ospedale che erano a quei tempi dei lazzaretti, dei ghetti infernali. Mi trovo invece a... L'immagine è rimasta nell'immaginario collettivo, cioè l'HIV è collegata a certe fotografie, a certe immagini. Eh sì, perché la comunicazione, il fatto che non se ne parli, dice se non se ne parla c'è qualcosa di terribile. Può esserci una differenza o un marchio morale su un virus? Un virus è un virus, a prescindere da come te lo prendi, insomma. Quello poi è casualità. Senti, come hanno reagito coloro che ti erano, che ti sono più vicini e che non sapevano alcune cose? Questa è la cosa che mi sta dando più soddisfazione e più gioia. Rispetto alla decisione di fare un'offerta del genere, no? Cioè metto la mia vita o il mio privato, anche le parti più intime, a disposizione, perché può essere utile la mia esperienza come incoraggiamento per qualcun altro. Però c'era questo pensiero. Io che ne so, magari perdiamo gli investimenti degli sponsor. Ho letto che ci hanno messo un po' quelli della Mondadori a convincerti a farlo. Eh sì, perché pensavo di non essere capace, non volevo, c'erano troppe cose appunto da affrontare. Però quello che sto vivendo da quando è uscito questo libro è una rivoluzione non solo mia, ma di tutti i miei ambienti. Non faccio che incontrare persone che mi manifestano affetto, umanità, tenerezza. Per cui mi sento come un bambino di cinque anni che con stupore sta riscoprendo tutte le persone intorno a lui, vicini di casa, con un piacere. Dice, guarda, mi sto sentendo molto voluto bene. Che essendo un insicuro, quello era il punto di partenza, di accidenti. Ma questo vale anche per il pubblico, quello che è lontano, che è abituato a sentirti dire delle battute, a fare un po'... Assolutamente. Anzi, sono quelli che secondo me apprezzano, hanno apprezzato più l'idea, anche per la sorpresa. Ma voi in trasmissione, io non l'ho sentito ultimamente, da quando è uscito il libro, ne avete parlato del libro e dei suoi contenuti? Poco, diciamo, avviso in genere che c'è un evento, una presentazione, utilizzo questo mezzo, più che altro io lavoro molto sui social, che insomma curo anche questi aspetti del programma. Senti, e Marco che reazione hai avuto? La prima cosa che ti ha detto, perché non me l'hai detto? No, mi ha detto subito, capisco perché non me l'hai detto prima, perché a quei tempi era un'altra cosa. Non c'era il rischio tecnico, perché io e Marco andiamo a letto insieme, ci frequentiamo lo stesso spazio. Però devo dire che in quegli anni, per esempio, siccome ancora non si sapeva bene, io non ho mai preso in braccio i miei nipoti, i figli di mio fratello o i figli di Marco, perché dico, ma oddio, se ne sa talmente poco che preferisco avere questa precauzione, estrema sicuramente, che non c'era motivo, però a quei tempi non si sapeva. Senti, e in mezzo a questo generale atteggiamento positivo che ci hai raccontato, c'è stato qualcuno invece che ha avuto un atteggiamento opposto? Non stiamo a dare idee, no, ancora no. No, per carità. Lo sta leggendo papà, che ha quasi 90 anni, adesso leggerà la mamma, i fratelli erano avvisati. Vediamo che succede. Hai messo delle infermiere qua e là. No, no, intanto chiamo, allora che pagina sei arrivato? Senti, ma secondo te tutto quello che tu hai attribuito al buddismo non sarebbe successo se avessi fatto la stessa cosa con la stessa intensità, lo stesso trasporto nella dimensione cattolica? Questo non lo so, però nella dimensione cattolica sicuramente c'erano delle problematiche che per me sono state d'impaccio. Per esempio, non so, il meccanismo del senso di colpa, il fatto che ci sia stato tutto questo insistere mediatico come se nell'essere omosessuale, nell'essere gay ci fosse qualcosa di negativo. Io ho dovuto fare i conti per anni con questa dimensione culturale. Alla fine mi sono rotto le scatole e mi sono servito altrove. Devo dire con grandissima soddisfazione. Personalmente è stato, ho avuto la fortuna poi di studiare tanto, di avere un maestro di vita meraviglioso che è Daisaku Ikeda, che ha speso una vita che è all'età di mio papà, quindi ho lo stesso rapporto affettivo con lui, ha speso tutta la vita per propagare questo insegnamento nel mondo. Lui ha scritto un romanzo che ha titolato La rivoluzione umana, per cui La rivoluzione del coniglio è in qualche modo una citazione diretta per chi pratica questo buddismo. Il coniglio ci voleva inevitabilmente. E nella terza di copertina lui scrive La rivoluzione nel carattere di una singola persona porterà al cambiamento di un intero paese e alla fine di un'intera umanità. Cioè, per il buddismo siamo tutti collegati, facciamo tutti parte dello stesso fenomeno meraviglioso che è la vita. Quindi, se vogliamo un cambiamento dei nostri rapporti in famiglia, nella coppia, nel vicinato, sul lavoro, eccetera, eccetera, dobbiamo cambiare noi. Questa è la piccola questione che poi forse dicono tutte le religioni. però in questa c'è un applicativo che io ho potuto sperimentare giorno dopo giorno e di cui adesso sono assolutamente convinto. Anzi, l'azione o la rilevanza che sta avendo questo primo libro, chi è che ha mai scritto un libro? Io non sapevo neanche come si faceva, mi sono messo e mi ci sono provato a farlo. Mi sta dimostrando che il disegno è esatto, è esatto quello che diceva Nichiren Daishon in questo monaco giapponese nel XIII secolo che poi Daisaku Ikeda ha attualizzato dedicando tutta la vita a scrivere, a parlare, a spiegare la filosofia e la teoria buddista. Io lo vivo tutti i giorni. Senti, facciamo un esperimento. Sarebbe un peccato essermelo tenuto per me, no? Se me lo fossi tenuto per me. Senti, facciamo un esperimento che non ti suoni blasfemo. Allora, loro adesso chiudono gli occhi per cui ascoltano solo la voce che conoscono perché perché diciamo il viso non sei un personaggio televisivo sei un personaggio radiofonico quindi ti si riconosce dalla voce, no? E tu siccome hai raccontato tutta questa cosa come era giusto e come era normale che fosse con il tono che ci voleva proviamo a sdrammatizzarla usando il tono del rugito del coniglio. Quindi tu tu di una battuta una cosa che faresti alla radio con la tua tipica col tuo tipico timbro qualcuno ha detto che sono stato un po' spudorato nel dice almeno queste cose potevi evitare di raccontare con chi vi ha letto cosa è successo però dovendo fare un'azione che è anche politica se vogliamo ho voluto affermare alcuni principi cioè ho voluto aprire delle questioni e in questo paese c'è tutta questa paura della sessualità del sesso no? ma anche nei rapporti all'interno della coppia non è che io inneggio a un libertinismo sfrenato però in alcuni momenti conoscere la mia sessualità è stato fondamentale per capire chi sono e per oltre che a divertirmi conoscere meglio il mondo per cui mi sono fatto quest'idea che se qualcuno ancora ritiene che il sesso sia una cosa sporca se lo lavi perché il problema è assolutamente suo qui abbiamo riconosciuto il rugito del coniglio chiudiamo con l'amore nell'ultima riga del libro ti rivolgi al tuo fidanzato non so se il nome sia giusto Morgan che affettuosamente chiami Momo e gli chiedi se ti vuole sposare intanto chi è Momo? che fa? Fabrizio è il mio compagno da 13 anni quindi dopo abbiamo aspettato così tanto per avere uno straccio di legge minima che concedesse qualche diritto come in tutte le coppie come nel resto del mondo di tanti paesi del mondo però se vedi oddio avete già frugato sui social non puoi pubblicare niente che fregano ma mi pare che la risposta sia già arrivata giusto? no siamo andati a informarci però lui ufficialmente dice io non ti ho ancora risposto riga dritto perché allora quando è che non lo sappiamo stiamo aspettando che il comune ci convochi per farci il discorsetto iniziale siete consapevoli di cosa significa di fronte alla legge questo passo che state facendo e poi stabiliremo in quell'occasione siamo consapevoli di fissare una data il luogo dove avverrà questa cerimonia formale bene per noi formale invece con un grande significato allora non ci rimane che farti due auguri uno che questa che quella maledetta bestia finisca definitivamente presto e l'altro perché ti metti insieme al tuo compagno in via definitiva grazie mille grazie a Tonello Dose di essere stato con noi e soprattutto grazie a voi di aver avuto il coraggio di scrivere questo bellissimo libro noi ci vediamo la settimana prossima arrivederci a tutti grazie ciao grazie a tutti